questo è uno schema diciamo abbastanza semplice ciao è uno schema abbastanza semplice di streaming cioè le posso registrare con i miei dispositivi di registrazione mando dentro un mixer video con un riscontro dalla mia regia mando fuori il flusso di video unitario il flusso di video unitario viene portato su un computer che me lo sbatte su internet allora gli intoppi sono che le persone non sanno dove andare per esempio questo è un intoppo tipico per cui io quello che propongo sempre è di gestirlo io dove vanno loro mandandole su una pagina e su quella pagina io embeddo il problema è che quando embeddo una cosa embeddo il codice A la persona arriva sulla pagina la apre e vede video non funziona io mi rendo conto che per qualsiasi motivo non funzionava che mi è saltato il codice A cambio sulla pagina il codice ma se la persona non fa refresh non vede il codice B quindi può succedere che io trasmetto e le persone non seguono per questo è sempre per mettersi a riparo da questo genere di cose è sempre buono avere un canale di back quindi una chat per esempio dove può dire ragazzi lo vedete? e loro no non lo vediamo perché secondo voi in quella chat non si può entrare liberamente ha bisogno di collegarsi tramite twitter tramite facebook? questa è la prima cosa l'autenticazione cioè se tu sei c'è scritto Michelangelo sotto non dici ragazzi sono tutti gli strozzi perché poi loro in qualche modo ti comporti sapendo che c'è la tua faccia e automaticamente non sei l'utente farfallina 86 e la seconda cosa è che ti dà la possibilità di avere un follow up relazionale cioè dovete vedere quante persone mi hanno aggiunto su twitter dopo alcuni super summit dove io ho partecipato come normale persona solamente quando dicevano nominavano un servizio io sentivo e mettevo in chat la url diretta della cosa che aveva detto quello che tu conosci prima il servizio oppure quello di Biasch che ha un'americanata di nome ma che ha detto e non lo ritrovi invece solamente mettendo io mettevo semplicemente i link delle cose che loro nominavano